Si chiama Beth Robinson, è una influencer che diciamo così si occupa di fare fitness e pensate che questa bellissima ragazza, io così la definisco, mia opinione, viene chiamata dai più balena molti infatti sono quelli che la etichettano, la bollano come una balena semplicemente perché è piuttosto formosa e piuttosto cicciotta a livello fisico alzardo a dire in sovrappeso, va bene? La donna dice io mi accetto col mio corpo, sono una fitness girl, seppure cicciotta eppure non siamo tutte bionde e magre e quindi dobbiamo accettarci insomma, è una donna morbida e curvi e io penso che questa donna debba essere pienamente orgogliosa di essere tale ok? Bene, concludendo qua a lei, il video termina qua iscrivetevi al canale Narado Italiano, commentate ecco, non bisogna per forza pensare che la donna bella sia per forza di cose magre io per esempio, l'ho sempre detto in tanti dei miei video, vi posso garantire che una donna morbida, procasica e giornalica la preferisco la magra ciao